Manca ancora qualche minuto alla fine della partita Qualche minuto più il recupero E potrebbe essere Serie A diretta Se dovesse finire la partita così 1-0 Intanto scusate ma do sempre uno sguardo Verso questa parte perché ho le partite Le sto seguendo Come vi dicevo manca solo qualche minuto più il recupero E potrebbe essere Serie A Potrebbe essere Serie A Lecce-Pordenone Lecce-Pordenone 1-0 decide Chi decide? Maier al 47esimo Dopo una bellissima azione corale del Lecce Forse abbiamo segnato? Non lo so Sento io da casa Ragazzi sto lontanissimo dallo stadio Ma sento comunque Cioè vi sento comunque gridare Vi sento comunque gridare dallo stadio Credo che abbiamo segnato Credo che abbiamo segnato Sicuramente adesso Io sarò un pochino in ritardo Sicuramente mi arriverà Però vi dicevo Decide Maier Al 47esimo del secondo tempo Dopo una bellissima azione corale Cross di Mariano Poi il tapin vincente di Maier Che come vi dicevo Colpo di testa E pom Ed è gol Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Tantissima ansia Dall'inizio della partita Anzi già da stamattina Tantissima ansia Fino ad adesso Allora Descriviamo un po' la partita Perché ragazzi è stata una partita E' stata una partita Fuori di testa Fuori di testa Allora Prima che mi dimentico Faccio i complimenti Al Pordenone Per aver giocato una partita Veramente Buona Degna di essere chiamata partita Perché Nonostante sia già retrocesso In Serie C In Lega Pro Continua comunque A giocare Continua comunque A difendere Continua comunque Con dignità A giocarsi questa partita Non regala niente A Lecce Non regala nulla Per questi 90 minuti Tranne Ovviamente Il gol di Maier Che Però non è stato affatto Un regalo Ma una bella Ripeto Una bellissima azione Costruita Da tanti componenti Dell'11 Del Lecce Mamma mia ragazzi Allora partiamo In 10 minuti È successo di tutto In 10 minuti È successo di tutto Il tiro di strefezza La palla Che arriva sulla mano Del portiere Che sbatte sul palo Ed è fuori Il volo d'Angelo Dopo neanche un minuto Di Di Mariano Un attacco continuo Un attacco continuo E serrato Sempre 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 Verso la porta Del Pordenone Che Solo poche occasioni Pochissime Occasioni E Veramente mai Mai sfruttate Forse solo Ricordo solo Una paratina Di Gabriel Però Diciamo Per il resto La partita del Pordenone Si commenta un po' Da sola Con tutto Il campionato Che ha fatto Allora Intanto sto Mamma mia Quanto sono in ritardo Partita che forse È già finita Non è stato il gol Ma forse La vittoria Alla fine della partita Quindi siamo in diretta In diretta Anzi Un po' in ritardino Lo sono Partita che dovrebbe finire Farà pochissimo Quindi Promozione che arriva Mentre sto registrando Mentre sto registrando Manca veramente Forse 30 secondi Sì Poi va bene Oltre al continuo attacco Insomma Di variazioni Veramente Mai forse Sfruttate Per il meglio Sempre da Lecce Che era Molto determinato Molto determinato È partita finita È finita È finita così È finita così Siamo in Serie A Siamo in Serie A Si ritorna nel calcio Che conta Si ritorna nel calcio Che conta L'anno prossimo Ci vedremo in Serie A Tra qualche mese Ci vedremo in Serie A Mamma mia Adesso è tutta festa Adesso è tutta festa Per noi Adesso non so più Neanche cosa dire Perché l'emozione È tantissima L'emozione è tantissima Però io Ve la devo Ve la devo spiegare Questa partita Perché è qualcosa Di incredibile Un campionato Allora Innanzitutto Vinciamo Il secondo Campionato di Serie B Dopo quello Vinto nel 2009 2010 Ben Undici anni 12 anni Diciamo Passati Mamma mia Vinciamo il nostro Secondo campionato di Serie B Adesso arriverà la premiazione Alzeremo la Coppa Tutto quanto Tutto quello che volete Ma Vi devo fare un po' Il riassunto di questa partita Io mi sono segnato Tutto quanto Ragazzi Il Pordenone Resiste Per 90 minuti Purtroppo Ormai già retrocesso Ma come mi dicevo Non si è mai Dato per vinto In quel senso Ha continuato a giocare Rispettando Il Lecce Rispettando Le squadre Che erano sotto il Lecce Tipo la Cremonese Il Monza Il Pisa Quindi giocando Rispettando il campionato E non come qualcuno Nella scorsa giornata Di campionato ha fatto Ma un Pordenone Veramente rispettoso Che gioca con dignità Questa partita Ci tengo a sottolineare E faccio i nuovi complimenti Al Pordenone E mando un in bocca al lupo Per la prossima stagione Purtroppo in Lega Pro Allora poi Al ventunesimo Strefezza Scambia con Gendré Tiro alto Dall'angolino Di destra Dell'area Tiro che finisce Sul secondo malo Sul secondo palo Ma purtroppo Troppo alto Ripeto Poi c'è stato anche Il cross di Gallo Forse un po' troppo forte Maia arriva un po' in ritardo Colpisce col petto La palla si alza Va fuori Insomma ragazzi Trenta minuti I primi trenta minuti Veramente di fuoco Con tantissime occasioni Ripeto Non sfruttate Al meglio Dal Lecce Tanti tiri fuori Ma Siamo stati tanto 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 pericolosi Siamo stati tanto pericolosi Perché volevamo Questa vittoria Volevamo Questa promozione La promozione diretta Volevamo vincere La partita Abbiamo vinto anche il campionato E dall'anno prossimo Da agosto Dell'anno prossimo Dalla stagione prossima Da agosto Ritorniamo in Serie A Ritorniamo in Serie A Mamma mia Sembra passata Non so Una vita Una vita Dall'ultima stagione Che abbiamo fatto in Serie A Ma ne sono passate Veramente poche Sono passati solo Due anni Però Ragazzi Mamma mia Mamma mia Sono emozionatissimo Io non sono neanche Ancora Forse Non mi sono Ancora reso conto Al 100% Di questa Di questa vittoria Io Sono ancora Non so Scioccato Scioccato perché Forse Me ne renderò conto Domani mattina Sicuramente Vi farò uscire Un altro video Dove Più Nella maniera Più lucida possibile Andiamo un po' A rivivere Quella che è stata Questa partita Ma Mamma mia Mamma mia Poi Gargiulo Occasioni Su occasioni Da una parte Dall'altra Da destra Da sinistra Di Mariano Gargiulo Maier Strefezza Sempre in stato Di forma Sempre Sempre All'attacco Coda che Vabbè Coda che Vabbè Viene All'inizio Partita Premiato Come miglior Giocatore Di quest'anno Di Serie B Ma Purtroppo Ahimè Troppe occasioni Mancate Anche da parte Sua Però Ragazzi Mamma mia Ragazzi Mamma mia Ragazzi Nonostante Tutto Siamo riusciti A passare Questa partita Nonostante Tutto Abbiamo Sofferto Per 90 Minuti Facciamo 47 Fino al gol Ma poi I restanti Minuti Fino al Novantesimo Fino alla fine Anche del recupero Sono stati Veramente Veramente Anziogeni Mamma mia Mai provata Così tanta Ansia Mamma mia Però Vi dicevo 47 Dopo una bellissima azione Da parte Di tutta Quasi tutta La squadra Arriva il gol Di Maier Poi Il colpo Di testa Di coda Mamma mia Da due passi Ma come si fa Ma come si fa Che minuto era Era il 54 Mamma mia Mamma mia Mamma mia Lì è caduto Un calendario Più o meno E un minuto dopo Al 55 Più o meno La stessa azione Però questa volta È Di Mariano Il protagonista Sempre da due passi Però questa volta Non di testa Ma col piede Spara a lato A 20 centimetri Dalla porta Mamma mia Mamma mia Lì è caduto Il secondo calendario Ne sono caduti parecchi Però queste sono le azioni Più Diciamo Più clamorose Che abbiamo mancato I gol più clamorosi Che abbiamo sbagliato Però mamma mia Poi 62esimo Tiro Tiro cross Dalla destra Di Gendray Che impensirisce il portiere Forse non se l'aspettava Non se l'aspettava nessuno Forse Neanche Gendray Secondo me Però arriva questo tiro cross Bello Molto potente Sul primo palo Però facilmente Respinto Dal portiere Del Pordenone Poi cosa c'è Cosa c'è Altro Vabbè Le sostituzioni Però non sono state Non hanno influito Più di tanto Però poi Al 69esimo Coda Si mangia un altro gol Questa volta Era un pochino Più difficile Me ne rendo conto Però c'è lo scavetto Che supera il portiere Ma che esce Veramente di pochissimo Forse Oddio di pochissimo Forse un metro Al di là Del palo lungo Però Ragazzi Secondo tempo Un po' la fotocopia Anche del primo Anche se Penso che nel primo Ci siano state Molte più occasioni Ma C'è bastato Quel gol C'è bastato Quel gol Per passare In Serie A C'è bastato Quel gol C'è bastato Quel gol Di Maier Per passare In Serie A Io ragazzi Da che ricordo Tutte le promozioni Che abbiamo conquistato Le abbiamo vinte Sempre per 1-0 Ricordo il gol Di Tabanelli Anche quella La vincemmo 1-0 Se non sbaglio Quindi Perché dobbiamo Soffrire così tanto Perché Perché dobbiamo Soffrire così tanto Sempre fino all'ultimo Momento Fino all'ultimo Minuto Fino all'ultimo Secondo Dell'ultima giornata Di campione Ma perché Perché Però è festa grande Festa grande Qui Festa grande Dimentichiamoci Tutte le occasioni perse Pensiamo al gol Pensiamo alla vittoria Pensiamo alla Serie A E speriamo di rimanerci Quanto più a lungo possibile In Serie A Dobbiamo tornare Nel calcio Che conta E io confido In questa dirigenza Confido Al presidente Saverio Sticchi Damiani In Corvino In Liguori Tutti Tutta la società Tutta Compresi i giocatori Io confido In tutta questa società Io metterei Non solo la mano Sul fuoco Ma Mi butterei Tutto Nel fuoco Convinto Di non bruciarmi Su questa società Mamma mia Mamma mia Ci stanno facendo Vivere Delle emozioni Che Che tutti noi Siamo abituati A A sentire Che tutti noi Siamo abituati A vedere Ma ce le stanno Facendo vivere Da un sacco Di anni A questa parte In maniera Molto più Tranquilla Se vogliamo Nel senso Che non ci sono Mai state Brutte Brutte Esperienze Ecco È sempre stato Abbastanza Rigoglioso Questo Lecce Con questa dirigenza Quindi Io non posso far altro Che fare i miei complimenti A tutto il Lecce A tutti i giocatori Dal primo Da coda All'ultimo Anche dei raccattapalle All'ultimo Dei magazzinieri A tutti quanti Perché tutti quanti Meritano questa vittoria E tutti noi tifosi Abbiamo meritato Questo regalo E adesso Si va tutti a festeggiare Adesso Si va tutti a festeggiare Probabilmente Ci vediamo domani Voi intanto Fatemi sapere la vostra Lasciate un like Un commento Fatemi sapere Se siete arrivati fino a questo punto Commentate con un Forza Lecce Scritto a caratteri Cubitali E ricordatevi Di iscrivervi al canale Perché Ragazzi Parlerò molto più spesso Anche di calcio Non solo di videogiochi Quindi Bella lì Forza Lecce Sempre E ci vediamo in Serie A E ci vediamo anche domani Probabilmente Con un video Molto più lucido Molto più tranquillo Molto più calmo E più pagato Grazie per avermi Prestato Questi minuti Della vostra vita E ragazzi Sempre Forza Lecce Lo ripeto Sempre Forza Lecce Grazie a tutti